Da circa dieci anni, le attività musicali di Cantabile sono rivolte allo sviluppo di progetti artistici specifici. Accanto alla ricerca e al miglioramento dei repertori corali, è presto emersa l'esigenza di pensare iniziative più complesse, per aprirsi al convergimento di altre realtà musicali e prendere parte alle sfide di promozione sociale del territorio. Alcuni di questi progetti hanno voluto approfondire e diffondere la conoscenza delle diverse culture musicali. A partire dal progetto Melting Choir, Cantabile ha sempre cercato di allargare i propri orizzonti, impegnandosi in produzioni interculturali e multilinguistiche. Due esiti significativi di questo approccio sono i progetti della Sinfonia Eucaristica e del Biandante. Lo sviluppo di Cantabile da semplice associazione culturale a ONUS e infine a fondazione ci ha fatto pensare che avremmo dovuto sviluppare, pensare e sviluppare progetti sempre più articolati e complessi. Abbiamo evitato di fare delle programmazioni che prevedessero solo le esibizioni delle nostre attività musicali, o un legame con altri gol per poter bandere insieme, o un progetto per cantare sempre meglio. Invece grazie anche a una composizione del Consiglio Direttivo che si giova nella presenza di persone con competenze differenti, abbiamo cercato di costruire progetti sempre più complessi. Grazie a tutti.